bene ragazzi ciao a tutti e bentornati sul canale di saturn 5 per una nuova produzione video una nuova sperimentazione ragazzi dopo tanto tempo approfittiamo di una splendida giornata di febbraio abbiamo un sole spettacolare come ormai da diversi giorni abbiamo 19 gradi è vero che poi più tardi le temperature scenderanno ma si sta veramente bene speriamo che continui questo caldo questo tempo perché siamo tutti stufi di pagare delle sveto allucinanti di riscaldamento ma bando alle ciance ragazzi ci troviamo a valle rossi frazione di somma riva perno nel roero una splendida zona area patrimonio dell'unesco che abbiamo già documentato in lungo in largo della provincia di cuneo siamo in una zona direi turisticamente paesegisticamente non particolarmente eclatante perché qua non siamo in zona rocche del roero siamo in una frazione abbiamo però scoperto una stradina che pare che porti in zone così abbastanza tranquille niente di particolare ma la cosa bella è appunto il clima l'aria terza quindi verranno sicuramente belle immagini e vediamo se c'è qualcosa di particolare l'abbiamo setacciato abbastanza in lungo in largo il roero ragazzi ma questa zona nello specifico di la parte bassa di somma riva perno quindi in direzione bra queste frazioni in mezzo a queste colline belle non le abbiamo ancora mai approfondite e sperimentate a piedi arriviamo esattamente da strada san giacomo percorso questo tratto di stradina con traffico tendente a zero e adesso qua continua un interessante percorso sterrato vediamo un attimo dove porta questo qui finalmente camellina può camminare libera ragazzi non è che sia un posto proprio particolarmente carino è perché va beh insomma un po un po in un vallone poi in più in pieno inverno senza tutto abbastanza secco c'è un po di paciorla anche per terra ma insomma vediamo se ha un seguito oppure una finta questa è la nostra direzione di provenienza siamo di nuovo capitati sull'asfalto attraversiamo questa provinciale ragazzi qui sembra che continui la strada sterrata indicazioni non ce ne sono però qui sembra che sia un sentiero questo è un classico tipo di sperimentazione a rischio ragazzi quando si parte e si esplorano delle zone si possono scoprire per caso dei percorsi bellissimi interessantissimi da ripetere o magari da ripetere con varianti variazioni nel caso più fortunato in assoluto si possono scoprire anche dei degli anelli veri e propri per non dover fare un'anda venanda come può succedere anche che quello che inizialmente è un sentiero che promette bene poi a un certo punto si perde o si ferma per qualche motivo questo è il rischio che si corre quando si prendono sentieri in un determinato territorio in una determinata zona non segnalati senza nomi è chiaro che se c'è un cartello di quelli tipici no o della via francigena o che ne so tipo i vari sentieri che abbiamo documentato tra la Langhe, Roero e Monferrato allora non ci sono problemi si sa che c'è un percorso fatto in un certo modo descritto magari da un sito internet eccetera qui ragazzi il bosco non è proprio figo come ad aprile però siamo partiti da questa frazione di Somma Riva Perno Val Rossi si chiama giusto Val Rossi Val Rossi e adesso qua non sappiamo neanche dove cazzo siamo se siamo sotto Saliceto dici può anche darsi tra l'altro c'era un bivio anche di la sinistra però sembra che qua la direzione che promette maggiormente di qua speriamo e teniamo duro in ogni caso anche se non dovessimo scoprire chissà quale tour ad anello l'anello non credo qua troppo culo però in ogni caso vediamo queste zone che non è qui che mai vista Cristo madonna vacca ragazzi la pauta qua purtroppo c'è e non si fa mancare porcheria totale nel frattempo vediamo qua tracce di cinghiali ragazzi o caprioli io continuo sempre a confonderli e nel frattempo qua il percorso continua 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 sembra che veramente non sia solo una finta notiamo anche che i boschi incominciano a popolarsi di animali sempre di più con lo sbocciare anche delle belle temperature ragazzi c'è un inizio di primavera anticipato qua tra l'altro stiamo vedendo abbiamo visto la prima margheritina nei prati e quindi dovrebbero anche comparire fra brevissimo le prime primule che sono i primi fiori che fioriscono proprio ancora in inverno sostanzialmente e vediamo di esplorare questa zona sono contento perché quando succede che per puro caso prendendo una zona a caso senza programmare nulla ragazzi a volte si scoprono veramente degli itinerari e delle zone che conoscono magari in pochi se non i locali ovviamente ma gente che viene da fuori ovviamente no ed è una cosa molto interessante spesso più interessante di quando ci si programma un percorso trovato su qualche sito per esempio Ecomuseo delle Rocche per quello che riguarda il Roero descrizione di sentieri alcune sono fatte bene altre sono fatte col culo quante bestemmia che ho tirato negli anni passati perché guardi descrizione tutto magari i primi due bivi coincidono poi a un certo punto non ti spiega più arrivi a un bivio dove il sito non spiega più e quindi poi tante volte si va lì per niente vabbè insomma siamo in un vallone una zona un po infossata i colori sono smorti nonostante la bella giornata ragazzi qua siamo ancora in inverno non possiamo pretendere continuiamo a esplorare siamo rovinati abbiamo scoperto una palla camilla non l'ha ancora vista anzi no l'ha vista la sta già puntando va bene nel frattempo siamo arrivati al fondo di questo vallone ragazzi addirittura abbiamo delle palme zona veramente misteriosa questa vediamo delle case sopra in lontananza siamo in un posto più freddo mentre sopra fa molto più caldo non è il posto più invitante del mondo questo ma è una zona dove credo che pochissimi si siano avventurati anche perché non abbiamo visto tracce impronte di scarpe durante il percorso solo cinghiali e caprioli forse quindi vediamo andiamo su adesso vedere qui ma credo che quasi fermi proprio anzi no forse di qua continua riesce a prenderla adesso brava portala qui brava aiuto piano piano eh ok ragazzi ci siamo fatti questo salitone provenendo da questo canalone siamo arrivati adesso su qui in mezzo alle case io avevo il terrore di arrivare invadere involontariamente la proprietà privata di qualcuno invece pare di no perché questo che sembrava un cortiletto deve essere zona pubblica l'unica cosa che qua adesso non sappiamo assolutamente dove siamo devo scoprirlo assolutamente credo che sia la frazione di qualche paese ma quale non si sa trovarsi in un posto senza sapere dove si è è proprio il massimo però succede prendete dei sentieri magari camminati in posti impervi attraversate anche magari del sottobosco che adesso è ancora blando primavera quel tratto là sotto non so se si potrà fare poi quando cresce quando parte la vegetazione sotto scusate il controsole non posso far diversamente mi sposto un po' e niente poi si arriva in questo paesino che non so neanche se un paese una frazione adesso cerchiamo qualche cartello qualche cosa di scritto almeno da poter sapere no perché poi qua sarà il momento di tornare indietro quindi partenza insomma arriva perno frazione vale rossi arrivo abbiamo fatto un bel po' di camminata qua eh beh oddio neanche poi tantissimo ma insomma dai boh vediamo svelato il mistero ragazzi camilla cosa c'è che tossisci così ma come mai fa così non lo so milla non è che non è andato per attraverso qualcosa non lo so comunque svelato il mistero ragazzi siamo nel comune di pocapaglia parte alta del comune di pocapaglia sentiero rocca creusa ragazzi che abbiamo già documentato e sperimentato siamo proprio nella parte alta e al punto più alto di pocapaglia paese meraviglioso in mezzo al roero ragazzi con colline viste allucinanti eccoci masca micelina rocca creusa sentiero botanico della verna tutti i sentieri documentati se vi interessano ragazzi andatevi a guardarli sul canale sono tutti documentati li abbiamo fatti qualche anno fa tutti i percorsi ad anello molto molto belli molto validi e niente camilla le è andato qualcosa per attraverso tossisce in maniera allucinante adesso vediamo un po' se c'è una fontana per esempio qui c'è che beva una volta il problema è che sarà sicuramente ah no eh no infatti è staccata figuriamoci camilla come mai tossisci così? non è tossiva sì è tossiva sì vero? eh? come mai? proprio da questo punto panoramico possiamo ammirare le meravigliose rocche del roero da qui si vedono dall'incrocio superiore del punto più alto del paese di pocapaglia guardate le rocche del roero naturalmente vediamo anche il castello di pocapaglia ok ragazzi siamo adesso sulla strada del ritorno ricordiamoci siamo a pocapaglia alta attenzione perché c'è anche pocapaglia bassa prendiamo adesso via riva che è esattamente il punto da cui siamo sbucati qua sembra di entrare in una proprietà privata in realtà non ho capito se magari poi anche proprietà privata è recintata solo in parte ma noi dobbiamo entrarci per forza qui per prendere di nuovo quel canalone per scendere giù per tornare esattamente dal fare la stessa strada dell'andata vedete qua sembra di entrare nelle case in realtà si fa così ok mi la? ecco liberala così almeno non tossisce più prima tossiva in una maniera allucinante ok discesone abbastanza ripido ragazzi e si prosegue Camilla purtroppo prima tossiva le ha dato qualcosa per attraverso a giocare con la palla qualcosa l'ha entrato in gola speriamo che si risolva tutto in fretta nel frattempo poi ci facciamo un ritorno troviamo magari qualche posto per darle da bere magari un baretto ok abbiamo attraversato questo lungo tratto di boschi incrociamo la provinciale riprendiamo strada San Giacomo da cui siamo provenuti e dopo un lungo tratto sterrato tra l'altro con la pauta siamo di nuovo sull'asfalto è veramente apprezzabile la temperatura di queste giornate ragazzi speriamo solo che continui così anzi che continui che venga ancora del fun dall'Africa che arrivino anche 20 gradi madonna sto riscaldamento veramente oltretutto anche fuori col freddo adesso noi non è che lo pattiamo in modo particolare però quest'anno l'inverno va bene così bella zona chiaramente qua belle ville ragazzi la zona è sempre loero spettacolare adesso abbiamo ancora un tratto di asfalto e concludiamo il percorso sommariva perno frazione Valle Rossi barra poca paglia alta ok ragazzi abbiamo cambiato idea sulla tappa al bar per aperitivo molto bene come al solito mettete un bel pollicione verso l'alto il video volge al termine come di consueto al prossimo video ciao